Ciao, mi chiamo Tommaso, ho 9 anni e quest'anno passo in quinta elementare. Ho due fratelli, Nicola e Antonella, che ho 7 anni. Io vivo a Firenze e vi da 4 anni, ma io sono spagnolo. Allo zecchino ho cantato Qualtiero dei Mestieri. Il 14 luglio vi aspetto a San Sperate per l'evento San Sperate in coro. Ciao! Ciao!